La stagione di Porta Garibaldi è la prima stagione di Milena usata dai passaggi di Milano-Monza. La linea, seconda in Italia dopo il Napoli Granatello in Portici, era inaugurata in 1840. Il suo nome originale era Milano-Porta Nuova e era un edificio neoclassico che è stato convertito in hotel. A causa dell'increzzo dei passaggi, un po' anni dopo si era deciso la stagione di una nuova stagione terminal nei suburbini. La stagione di Porta Nuova era abbandonata nel 1961 e due anni dopo si era cambiata dalla stagione di Milano-Porta Garibaldi, per cui la F.S. ha avuto la competizione nel 1956. Il materiale principale della stagione era l'irone, che dava alla stagione un stagione essenziale. Durante i anni, molti di lavoro sull'emnonciamento e l'upgrade erano stati. In 1966, Garibaldi era tornato in una stagione terminal. recentemente, la stoppia della linea suburbana era abbandonata e nel 2018 due scuola erano stati. In 2006, il progetto della società Centro Stazioni iniziò per rinnovare la bambina e l'illuminazione dentro, grazie a una scuola centrale chiamata Pozzo di Lucia. La stagione è ora considerata un luogo, sicuro, confortabile e dinamico. Oggi, Milano-Porta Garibaldi è la principale stagione della stagione per il traffico di cammata, e la seconda, dopo Milano Centrale, per i numeri del rinnovamento. Il ruolo strategico della stagione fu rinforzato per la stoppia della linea suburbana automaticamente, in additione alla linea M2. Milano-Farini, il luogo migliore scuola della stagione, è inclusivo nei distritti di Tolanchetti. Questo luogo, come le altre zone non utilizzate mai più dal FAS, si convertisce e il luogo diventa in un distritto moderno, considerato la maggior opportunità di sviluppo reale in Milano.